L'obesità non è solo una questione estetica ma è soprattutto una questione di salute e domani è stata organizzata una giornata proprio per sensibilizzare su questo tema. La nostra intenzione aderendo all'Obesity Day, che è una giornata mondiale di sensibilizzazione della popolazione al tema dell'obesità, ha proprio questo scopo di sensibilizzare l'opinione pubblica al problema, ma facendo presente che il lato estetico è soltanto una piccola parte di questo problema. Per l'amore di Dio c'è anche questo, ha un risvolto importante soprattutto per le persone giovani. Però quello che ci preoccupa di più è il fatto che c'è un connubio tra obesità e molte patologie anche gravi. Parliamo di diabete ma parliamo anche di tumori, parliamo di osteoporosi, parliamo di ipertensione. Quanti casi seguite all'anno qui all'ospedale di Piacenza? I grandi obesi, che sono quelli che possono andare incontro alla chirurgia dell'obesità, sono stati in questi anni, diciamo dal 2005 ad ora, quasi 300. Però noi vorremmo che i pazienti non arrivassero all'intervento, noi vorremmo curarli prima proprio per garantire una qualità di vita migliore. Cos'è che determina l'obesità? I fattori genetici sicuramente sono influenti, poi c'è il fattore ambientale molto forte, siamo continuamente soggetti a messaggi pubblicitari attraverso i quali siamo in qualche modo invogliati a consumare sempre sostanze ipercaloriche. Poi un problema molto importante che sarà tema anche di un congresso al quale parteciperemo a Parma dove si parlerà proprio di attività fisica e obesità. È un tema molto importante perché se è vero che quello che mangiamo conta tantissimo, è anche vero che l'attività fisica che al giorno d'oggi è veramente molto ridotta, non solo negli adulti ma purtroppo anche nei bambini, è un fattore altrettanto importante nel causare l'obesità.